I cambiamenti sono all'ordine del giorno e del mondo del calcio. Quest'anno sarà un anno con tante novità. La prima è che andrà in scena la Champions League senza campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Messi, entrambi volati in altre federazioni, abbandonando per la prima volta la UEFA dal 2004. La seconda è che quest'anno il pallone d'oro non ha nell'elenco dei 30 giocatori migliori nel mondo proprio il campione portoghese. Dal 2004 CR7 era un abitué di tale rassegno e per la prima volta non prenderà parte, al contrario del suo amico, nemico, Lionel Messi, che dopo aver vinto il mondiale con la sua Argentina si appresta ad alzare nuovamente il prestigioso premio. E poi ci sono gli italiani, o meglio i calciatori, che giocano in Italia. L'Inter, finalista di Champions League, presenta nel prestigioso elenco calciatori come Lautaro, Barella e Oramai Exonana, volato a Manchester in estate. Al tempo stesso anche il Napoli presenta tre calciatori candidati alla vittoria finale, ovvero Kvaro, Simen e Kim, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bayern Monaco. Nessuno, ovviamente, è destinato alla vittoria del premio, ma in ugual modo fa piacere veder riconosciuto il valore di questi calciatori che, per quanto mostrato nella passata stagione, in particolare per Niccolò Barella, unico italiano inserito nella top 30 mondiale. Enrico Sacchi, storico allenatore del Milan e della Nazionale, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dai meriti della candidatura dei tre calciatori del Napoli a Spalletti. Sacchi, dai meriti al tecnico per aver cambiato il modo di giocare del Napoli, frutto della cessione di pezzi pregiati come Mertens, Insigne e quant'altro. Io non me l'aspettavo, in questo caso gli applausi vanno a Spalletti. In queste tre nomination, insomma, vedo un premio al collettivo, in chiara e netta opposizione al calcio individualista. In questo caso gli applausi vanno a Spalletti.